...Micheleto con il suo bellissimo servizio. Difendiamo, la via, è il suo pallone, prova un pallonetto stavolta troppo alto. Kersmanovic non chiude, allora si va in quattro, Kuzioncic! E' il primo muro della serata, del nostro numero 19. Leis, di Daniele, la via! Alessandro Micheleto, gioca stavolta una palla corta, ricevuta sempre bene da Kapur, che sta giocando un'ottima partita! Eccolo là il nostro libero, Balazzo, un mezzo miracolo, la via, Giannelli, Romanoda fermo, Balazzo ancora lì! Kapur, Atanasievi! Giannelli con il bagger, in quattro sulla via, la lascia scorrere! L'Italia è sull'1-0 contro la Serbia! Ale Ale, dalle tribune del Palabarton, 4-6! Questo è il quinto! Vukstodorovic! La recessione di Balazzo, Giannelli, dietro per Micheletto, attenzione! C'è il fallo a rete, commesso da Marco Ivovic! L'Italia chiude, anche il secondo set, siamo 2-0! Questo Simone ogni tanto lo tira fuori! Recessione di la via, Giannelli, vediamo chi dà la palla, Iuri Romano! Finesce qua! L'Italia batte anche la Serbia, un altro 3-0 in questo europeo, tre partite, tre vittorie, ma soprattutto, anche questa sera, una bella Italia!